Non mi ricordo tutto. Tony, siediti, ho una grande notizia. La notte. Antonio Pisapia. Antonio Pisapia. Era un grande calciatore. No! Proci, non ci vuole tantare con poeta! Sì! Non mi ha accorto Parigi, siamo dentro io, Sosso, Rimossa e Paglia. Sono 10 milioni a testo, Antonio. Io non ci sto. Noi non sappiamo fare un cazzo. Noi sappiamo solo giocare a pallone. Ma voi veramente state facendo? Io non sono più il tuo mancino. Devi darmi immediatamente il numero di telepolo di Antonio Pisapia. Qua da un momento all'altro salta fuori tutto. Ci voleva una caipirina. Non mi ricordo tutto.